Ciao a tutti ragazzi, io sono Joel e bentornati su The Last of Gaming Oggi siamo tornati dopo tanto tempo su The Sims 4 Saranno mesi e mesi che non lo porto Prima di iniziare a giocare si è fatto mezz'ora di aggiornamenti Allora, vediamo Summer che sta facendo Summer sta... Sto giocando a Sim per sempre Praticamente gioca a Sims dentro le Sims Va bene, allora, carriera lavorativa Come siamo nominati Abbiamo fatto tutte queste cose E ha rotto il frigo Cioè, non ci credo Tu fai una cosa, rompi il frigo Intanto, l'incarico suo era L'incarico del giorno, video giocare come al solito Fatto al 50% Quindi, poi Summer si leva e facciamo Allora, gioca una partita Io gioco a Block Giochiamo a Block A Block Dai, facciamoci una partitina a Block A Block e vediamo che succede Mi dovrei fare fare a questi Sim qualcosa di più... Di più motivante Di più bello Dovevi pulire qua Ma se ti facevo una cosa Summer, per cortesia Vai a pulire Joel ha raggiunto il... Joel, che stai facendo? Fa il troll sui forum Veramente ti avevo detto di giocare Coglionazzo che sei Sì, quella è incazzata Vedi che se rompi il frigo Lo aggiusti tu, poi Cina, che ti mangi sta merda Già cotta Già preparati Lo yogurt cotto Vorrei vedere come sta Buono Quindi intanto giochi fino... Che ore sono? Fino alle 4 di mattina Sei peggio di me La doccia è putrida Cichifo Però io sembra che si sia fatto la doccia Un orco Lavoro solo Lavoriamo solo almeno Può essere che ci danno una promozione Qualcosa di bello Facciamo vedere che valiamo Perché noi valiamo Intanto si sta incavolando con le macchie Che ci sono nella doccia Se non mettere una maschera anti-gas Secondo me Prende l'ebola Ma Sono dettagli Cioè in 5 secondi La fatta diventare Da Marcia Splendente Però vabbè Dettagli di The Sims Misteri Del mondo di The Sims E Sembra che hanno perso Tutti la voglia di vivere Guarda proprio Gli sguardi assenti Oddio Sparita E sparita Poi se sparisce E riappare Così A caso Non ci facciamo domande Perché non ce ne dobbiamo fare assolutamente Sulla porta Ci facciamo La doccia Comodamente Così Senza Nemmeno Salutare Così Niente Uno entra A casa delle persone Si fa la doccia Così Intanto La televisione è molto bella Ce l'avevo pure io Quella negli anni 80 Joel è stato promosso E programmato A new book Guadagna 9 dollari in più All'ora Per un totale Di 47 All'ora Cioè questa Entra Quando sono in magno Così Cioè così Nessun problema Eh Per farti un pochino Fare ginnastico Un po' Direi di fare Anche qualche altra cosa Ora glielo sta proponendo Ora ha detto Sì davvero Sì vabbè Dai andiamo Ammiriamo queste scene In tutto il loro splendore Anche se non si vede un c***o Cioè ma come si Come fanno a farlo Sotto le lenzuola Completamente Ma non morono Di esplici Non muoio Non muorono Ma perché Oggi uso termini Che nemmeno esistono Perché Cioè ora voglio sapere Cosa si interavano I fuochi D'artificio Vabbè niente Allora Vi invito A lasciare un mi piace A condividere il video A commentare E Ad un prossimo video Ciao